Il Signore sia con voi Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare la sua creazione sia sempre con voi Gesù Cristo ha manifestato la grande dignità del lavoro quando il Dio stesso, verbo di Dio fatto uomo, vuole essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi del nome dell'officio di Nadia Così ridorse l'andica maledizione conseguenza del peccato e trasformò la fatica umana in onde di benedizione Ora vogliamo invocare tutt'insieme il Signore perché benedita la sua locata E ci chiamo il Padre Padre nostro, ogni segno e ogni segno, sia davanti il Stato e il tuo nome Mentre il tuo regno sia fatta la tua volontà come diceva così incerta Lascia oggi il nostro pane e coordiniamo E mentre a noi non si è debiti Con i nostri amici, con i nostri amici, con i nostri amici E con i nostri amici, con i nostri amici, con i nostri amici Amici Preghiamo, o Dio, creatore e il Padre Che hai affidato la terra e i suoi pupi al domani del uomo Perché, mediante il lavoro, si faccia strumento della tua provvidenza Benediti quanti usufruiscono come esercenti o accurenti di questo servizio E fatti osservino sempre la giustizia e la carità E così concorrano al bene di tutti Ieri di operare per la crescita della società Per Cristo nostro Signore Amo La benedizione di tutti i comandi Padre, Figlio e Spirito, Santo e Vicente Assurdo di voi e su questo locale Vi rimanga sempre Amo Amo Buon'acqua benedetta C'è una cosa Aguri a tutti voi Buon'acqua benedetta 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti